Buongiorno a tutti, benvenuti al webinar di oggi e benvenuti al webinar dedicato allo smart working, continuo al nostro percorso dedicato a questo tema e questo strumento oggi più che mai attuale. Grazie per la partecipazione. Prima di lasciare la parola ai nostri esperti di oggi che sono Stefani Vella e Federico Giolli e voglio ricordarvi chi siamo, chi è GCEP. GCEP, Genesyn Canepari & Partners, è una società internazionale di consulenza e formazione che dal 2008 si occupa di imprese e come mission vuole costruire assieme ai propri clienti imprese di successo che puntano all'eccellenza. Eccellenza su cosa? Su tutte quelle aree strategiche che riguardano l'impresa. In particolare ci focalizziamo sullo sviluppo del business, quindi come far crescere l'impresa in Italia e all'estero. Ci occupiamo di organizzazione, in particolare sposando quelli che sono i principi e la filosofia della Lean Organization, proponiamo alle imprese di rivedere i propri processi al fine di migliorarli e ottimizzarli soprattutto, quindi andando ad eliminare quelli che sono gli sprechi e quindi dando maggior valore all'impresa stessa. Maggior valore per il proprio cliente. Un'altra business unit in cui siamo molto coinvolti e oggi è proprio il focus di questo webinar è il mondo delle risorse umane. Mettiamo al centro le persone, affianchiamo le imprese in tutte quelle tematiche chiamate soft che si occupano di comunicazione, di miglioramento continuo, di formazione, di formazione anche esperenziale, di team building e oggi vediamo alcuni di questi aspetti legati proprio al miglioramento dell'organizzazione e allo strumento dello smart working. L'ultima business unit in cui siamo specialisti è quella dei finanziamenti alle imprese perché crediamo che nei progetti di miglioramento dell'organizzazione e miglioramento dell'impresa, quindi crescita dell'impresa stessa, esistono degli strumenti di finanza agevolata che permettono e aiutano questi progetti e quindi attraverso un team di esperti ci dedichiamo alla ricerca, alla progettazione, alla gestione, alla ricontazione dei progetti finanziati che possono essere di vario tipo ma che in questi anni hanno dato respiro alle aziende per poter attivare i propri progetti, realizzare i propri progetti e quindi una crescita. Adesso voglio passare direttamente la parola ai colleghi e vi presento Stefani Vella e Federico Giolli e lascio la parola direttamente a loro che vi racconteranno un po' il tema di oggi. Grazie mille a tutti e buon webinar. Grazie Cecilia, buongiorno. Grazie Cecilia, buongiorno. Grazie per la presentazione. Faccio un minimo di introduzione mia e di Stefani per quello che è la nostra competenza. Stefani ed io lavoriamo insieme da circa due anni, principalmente lavoriamo come coach, come formatori, e come consulenti. Abbiamo esperienza in azienda diciamo anche lunga per circa vent'anni, abbiamo esperienza in tutta una serie di strumenti di gestione delle persone come coach e come formatori. Per cui direi che vorremmo affrontare il tema non solo dal punto di vista tecnico ma da un punto di vista un pochino più ampio. Stef. Ottimo, buongiorno, ben arrivati a tutti. Grazie anche Cecilia e Federico e grazie alla presenza di tutti voi. Oggi andremo a vedere come il tema dello smart working ci ha toccati, quindi quello che è successo finora, però vale la pena anche poi rivolgere lo sguardo di dove siamo ora e cosa ci aspetta andando avanti. Questo lo facciamo con un approccio integrato. L'approccio integrato vuol dire che noi andiamo a vedere come prima di tutto una crisi ci può aiutare a forzarci, sforzarci ad uscire fuori dalla nostra zona di comfort, è toccato a tutti, ma anche a valutare delle opportunità che questa crisi ci sta offrendo. Citiamo Albert Einstein per iniziare. Lui dice che la crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni perché la crisi porta inevitabilmente progressi. La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura e dunque è nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Non è un gioco di parole, bensì una realtà, una verità importante che abbiamo e stiamo toccando con mano in questo momento. stiamo formalmente anche superando la crisi perché anche le autorità di questo paese ma anche del mondo intero stanno capendo che non si può più vivere ancora in quella che viene definita come una situazione di crisi però bisogna di integrare ciò che è successo su più livelli, su più fronti, non solo il virus stesso ma anche tutti gli impatti che ci sono stati e ci sono tuttora e fare in modo di imparare, cogliere l'opportunità per evolverci ulteriormente non solo a livello collettivo, non solo a livello individuale ma anche a livello organizzativo. Quindi le aziende come gli esseri umani hanno l'opportunità di evolvere di più ciò che stanno facendo non rivoluzionandolo ma facendolo evolvere non solo dal punto di vista strutturale quindi come lavoro ma anche a livello culturale perché faccio quello che faccio e come lo faccio. Quindi oggi il nostro approccio sarà ibrido perché andiamo a vedere sia gli aspetti razionali, logici da una parte ma anche quelli culturali e anche motivazionali, motivazione quindi la ragione, il motivo del perché noi facciamo e agiamo in un certo modo e quindi vogliamo darvi una panoramica sistemica di quello che sta succedendo ora. Tutto questo per aiutarvi ad avere più consapevolezza e anche responsabilità nelle vostre azioni le azioni che porteranno voi stessi, i vostri team e le vostre organizzazioni verso un futuro più consapevole su quello che stiamo facendo in base ai bisogni non solo passati, presenti ma possibilmente anche un po' prevedendo un po' il futuro vicino. Bene, partiamo con il nostro viaggio. Partiamo e direi di partire facendo una piccola fotografia. Allora, il nostro viaggio è un webinar ma noi vorremmo che fosse anche interattivo. Avete la possibilità di fare domande e risposte. Vi diamo anche un piccolo spunto, un piccolo spunto per partire, per cominciare, per fare una fotografia di quello che attualmente è la visione vostra e probabilmente anche più generale di cos'è lo smart working ad oggi. Se ne parla in continuazione, abbiamo visto continuamente servizi, articoli, poi magari faremo anche il check di alcuni di questi che ci dicono che cosa è, che cosa ha portato e che cosa non è. Vorremmo che ci diceste la vostra, per cui vi inviterei a andare un attimo su questo sito per poter vedere insieme. Ecco qua. Quindi potete usare il vostro smartphone oppure il vostro pc, se vi siete collegati dal vostro pc, per rispondere a un sondaggio, un sondaggio istantaneo. Quindi vi chiediamo di collegarvi al sito www.menti.com dal vostro browser. Ripeto, può essere il browser del vostro telefono oppure del vostro pc. e potete inserire un codice, quello che è, vedete in questo momento, ve lo diciamo anche a voce, 9812-2283. 9812-2283. Inserendo questo codice troverete questa domanda che vi abbiamo anche messo in questo momento qui sullo schermo, cioè quale definizione più si adatta per te al termine smart working? Perché vogliamo capire il tuo percepito. E questo è fondamentale perché è da lì che partiamo, perché è dal nostro percepito che possiamo fare dei ragionamenti sui quali trovarci d'accordo o magari in disaccordo. Quindi se pensate che le opzioni sono, magari anche Federico qua ci può leggere le varie opzioni che abbiamo dato, messo a disposizione sono sei, potete scegliere quella che secondo voi, e ne potete scegliere fino a due, che secondo voi rispecchiano di più il vostro termine, la vostra percezione di cos'è lo smart working. Vedete che ci sono delle concine colorate sotto, ecco cominciamo a vedere i primi risultati. Quindi vediamo dalla prima, lavorare da casa seguendo regole, processi e responsabilità ben definiti e concordati. La seconda, lavorare in autonomia per obiettivi chiari e portando risultati. Vediamo la terza, lavorare velocemente in base a ciò che ritengo più utile ed urgente per me. La quarta, lavoro in totale autonomia interpretando la visione dell'organizzazione di cui faccio parte. Quindi abbiamo la verde, organizzo il mio lavoro in armonia con le richieste delle persone del mio team e di miei bisogni. Ultima, ma non ultima, solo in ordine diciamo di posizione, lavoro in base ai bisogni affidandomi alle indicazioni del capo. Abbiamo quattro votanti per il momento, vi pregherei partecipare perché ci dà uno spunto interessante il confronto fra tutti. Siete e provenite probabilmente da realtà diverse, sarà interessante anche quello, mettere a confronto e poi lo vedremo sui numeri che vi presenteremo, situazioni diverse, come reagiscono in modo diverso a quella che è stata un evento e che purtroppo è tuttora un evento importante, ci ha portato a questa spinta importante al cambiamento verso lo smart working. Ok, attendiamo ancora qualche istante prima di passare ad un'ulteriore domanda perché ci, ripeto, piace avere un contatto diretto con la vostra percezione e di questo stiamo parlando perché non c'è solo una realtà oggettiva. Bene, possiamo procedere quindi ad andare alla seconda domanda, rimanete sullo stesso www.menti.com Tuttavia, vi chiediamo di inserire anche il codice che ci farà vedere adesso Federico. E questo ci aiuterà ad andare a tastare anche qui il terreno dal vostro punto di vista e in questo caso vi diamo ancora più ampio spazio per esprimervi. Vi chiediamo di scrivere negli spazi messi a disposizione digitando il codice 47754420, ripeto, 47754420, tre concetti, tre stringhe di parole. Ok, non possono essere troppo lunghi, c'è un limite di carattere, però quelli che secondo voi rappresentano i tre vantaggi dello smart working. Per come l'avete vissuto voi, ok? Tre. Inseriteli e inizieremo a vedere man mano che inserirete questi concetti che inizieremo a vederli in diretta qua emergere e condividerete il vostro sentire. Ripeto, il codice è 47754420. E questo lo potete sempre fare utilizzando sia il vostro telefono piuttosto che il sito che troverete sul vostro browser, sul pc. Ok, se non c'è ancora nessun input, ma penso che state in questo momento magari ancora sapendo esatto come funziona, vediamo come il primo input è stress. Stiamo parlando di vantaggi e attenzione, attenzione su questo. Lo stress può anche essere in parte positivo, diciamo che siamo più a conoscenza dell'aspetto negativo, può essere in parte positivo. Ho meno stress, benissimo, grazie Marta. Flessibilità, ottimizzazione del tempo, efficienza, organizzazione familiare, pendolarismo. Immagina anche qua, meno pendolarismo, quindi come lo stress probabilmente si intende che ce ne sia di meno. Bene, aspettiamo di ricevere anche altri input. E questo ci aiuta a capire bene anche qual è il vostro sentire sul tema. Va bene, Federico penso che possiamo anche procedere con anche l'ultimo. Ecco, no, no, ok, perfetto. Vediamo libertà, vita, ottimizzazione del tempo. Tempo, benissimo. Tempo, più tempo per noi probabilmente anche, flessibilità. Benissimo, grazie Marta, sì, ok, perfetto. Bene, adesso passiamo. Quindi rimanendo sempre lì con lo stesso codice, vi dà la possibilità di andare avanti. E andando avanti potete questa volta scrivere secondo voi quali sono gli svantaggi dello smart working. Allo stesso modo, quindi come avete fatto prima per i vantaggi, potete inserire gli svantaggi. Attendiamo qualche minuto. E questo sicuramente racconta il vissuto di ognuno di voi come in questo lungo periodo abbiamo avuto ampio modo di vedere sia gli effetti positivi che anche meno belli di questa nuova modalità. troviamo solitudine, la tecnologia nemica, la perdita di connessione che può essere sia tecnologica ma soprattutto penso anche umana. Vediamo, poi vediamo il distacco dai colleghi, la difficoltà di comunicazione, l'impatto sulle relazioni, l'interazione, il lavorare più ore e anche il distacco dalla realtà aziendale. Molto bene, grazie per tutti, per quanto avete condiviso. Avremo modo di valorizzare di più. Ecco arriva anche un'altra risposta. Vediamo poca interazione anche tra le persone. Spese, utenze. Ok. E mi sembra che ci siamo, le abbiamo citate tutte. Grazie per il vostro input e andremo sicuramente a valorizzare questo vostro riscontro in quello che andremo a condividere adesso dal punto di vista di quello che è stato anche il sentore in modo più generico. Quindi, Fede, la fotografia è stentanea come primo punto per iniziare il viaggio. Ok, la riprenderemo in un secondo momento proprio perché utilizziamo questa base come spunto per quello che andiamo poi a raccontare e poi andremo a vedere nel dettaglio cosa comporta, cosa ha portato, cosa ci permette o non permette di avere questa situazione. Quindi direi di partire col nostro viaggio integrato allo smart working. che l'abbiamo visto anche dalle vostre risposte. Ci sono problemi tecnologici, ci sono problemi strutturali, ci sono problemi emotivi, perché comunque solitudine, stare distante dai colleghi, è comunque un qualcosa che crea un tema di distacco. spesso e volentieri si confonde lo smart working con il telelavoro puro. Spesso e volentieri si dà l'unica risposta come ti do uno strumento migliore per lavorare, fermo restando che in realtà restano in piedi tutta una serie di problemi. noi andremo ad affrontare le cose in maniera leggermente diversa o meglio un po' più aperta ed integrata. L'obiettivo del nostro approccio è proprio quello di prendere l'essere umano a 360 gradi e dargli quell'equilibrio sistemico che in qualche maniera a cui aspiriamo spesso inconsapevolmente tutti noi. Quindi spesso sentiamo che magari risolviamo un problema, ma ci resta qualcosa aperto da qualche parte che non riusciamo a risolvere spesso razionalmente. Ottimo. Quindi il nostro primo punto, la partenza, la faremo da un punto di vista logico, razionale, di analisi. Non ci si affermeremo troppo, però ci sembra che è fondamentale partire da lì per capire il percepito da un punto di vista il più possibile oggettivo di quello che è successo finora, per poi passare anche da un punto di vista invece quello più culturale, a livello individuale, ma a livello anche collettivo e anche delle organizzazioni, su quello che è successo e sta succedendo per questa evoluzione di cui stiamo parlando, che è un'evoluzione vera e propria, valoriale. Quindi partiamo, Federico, dall'analisi di quelli che sono i riferimenti strutturali, quindi dal punto di vista di legislazione, cosa dice, cos'è lo smart working dal punto di vista del legislatore e quali sono i progetti che ci sono, sono partiti in questo senso e che scelta ci troviamo in parte costretti a fare entro il 31 marzo. E quindi anche andiamo a capire dal punto di vista di strumenti di sicurezza di cosa stiamo parlando nelle scelte che le nostre organizzazioni devono fare. Federico. Allora, lo smart working era stato in qualche maniera normato nel 2017. Ormai questo è diventata una conoscenza diffusa del fatto che la modalità di lavoro agile, lo smart working, era in qualche maniera già partita precedentemente. Nel momento in cui era partita in realtà come una serie di accordi singolari con le singole persone. Quindi non era percepito come un bisogno strutturale complessivo dell'organizzazione, ma come risposta al bisogno delle singole persone e in particolar modo di persone che avessero dei temi aperti di problema, di gestione o qualsiasi cosa riguardo al lavoro, alla modalità di muoversi o alla tempistica. Non c'è stato nel primo nostro accesso allo smart working nessun tipo di progetto cultural organizzativo. Era semplicemente, e comunque un bel passo avanti, la risposta all'esigenza di alcuni temi singoli. Non per niente si parla di flessibilità organizzativa sulla volontarietà delle parti, accordo individuale, poi si parla di strumentazione, parità di trattamento, cioè il rispetto delle condizioni di gruppo, ma l'accordo è singolo. Io ho un problema, ti richiedo lo smart working, me lo puoi concedere, però è l'accordo fra me e l'azienda e non un qualcosa che venisse visto a livello organizzativo. La pandemia ha spazzato via tutto questo tema, nel senso ha costretto tutte le aziende di qualsiasi dimensione o tipo a confrontarsi col tema dello smart working. L'impedimento della possibilità di lavorare fianco a fianco o di fronte alle persone ha fatto sì che tutti noi ci siamo trovati costretti dalla situazione a inventarci qualcosa di diverso. la legislazione con la normazione nella crisi dello smart working ha permesso che questa cosa fosse semplice e fattibile a qualsiasi livello, quindi sia nella pubblica amministrazione sia nei settori privati la legge ha permesso di allargare le maglie in maniera enorme. E andiamo a vedere un po' di numeri, questa cosa è stata ovviamente recepita e utilizzata a tutti i livelli. Andiamo a vedere. Non tutti erano pronti mentalmente e anche strutturalmente per questo passaggio, quindi andremo a vedere con questi dati adesso un po' come abbiamo risposto. Quindi vediamo, questa è una ricerca fatta dal Politecnico di Milano, andiamo a vedere, risale al 2021, quindi a pochissimi mesi fa, e analizza il numero di smart worker e l'impatto di questi sulle aziende divise per categoria. Quindi vedremo anche qui l'impatto che ha avuto sia sulle grandi imprese, sia sulla pubblica amministrazione e sulle piccole e medie imprese, che poi probabilmente sono il target di riferimento del nostro racconto. ma proprio da questo confronto, secondo me, vedrete, nascono tutta una serie di indicazioni e questioni che possiamo in qualche maniera analizzare insieme. Qui parliamo dei lavoratori da remoto nel 2021. Nel 2021 già siamo in fase di, diciamo, siamo sempre in fase di crisi, quindi di semplificazione, ma non abbiamo più il lockdown, dell'anno precedente che aveva praticamente bloccato tutta Italia. Quindi partiamo da un numero di circa 5 milioni e 370 mila smart worker che via via va a diminuire con l'allentamento, diciamo, del peso della pandemia su quello che è il lavoro stesso, in realtà sulla vita di tutti noi quotidiana. Quindi, vedete, da 5 milioni e 370 mila del primo trimestre si arriva a circa 4 milioni e 70 mila a fine anno. Questo cosa vuol dire? Significa che abbandoniamo lo smart working? Non proprio, diciamo che viene in qualche maniera recepito e regolamentato e organizzato, mentre all'inizio è stato preso come unica ancora e salvezza, piano piano si comincia a ragionare in termini nuovi di organizzazione del lavoro e, perché no, della vita di tutti noi. Quindi il tema del post-emergenza, cioè il giorno in cui chiuderà, speriamo, l'emergenza pandemia, risulterebbe dal sondaggio che comunque 4 milioni e 380 mila. Posso continuare io? Fortunatamente siamo anche in due. Quindi, quello che stava raccontando Federico è proprio l'evoluzione che c'è stata in senso di miglioramenti. Chiaro è che, da un punto di vista anche dell'engagement, l'ingaggio emotivo delle persone, per alcuni che si sono trovati pronti e felici di farlo perché mentalmente erano già pronti e anche la loro infrastruttura e anche l'organizzazione dal punto di vista di processo decisionale gli ha consentito di sentirsi che andava meglio e bene così questo tipo di modo di lavorare. Però, gran parte di quelli che non si sono trovati pronti dal punto di vista di tecnologia si sono trovati anche a vivere grandi momenti di tecnostress. Anch'io personalmente, per quanto sono organizzata bene da casa, il fatto che avere anche due bambini in casa che stanno facendo anche il lavoro della scuola portando avanti, la saturazione poi anche della rete, mi ha portato chiaramente a vivere dei momenti di grande difficoltà, anche se mentalmente ero pronta, tecnologicamente c'era una stress che comunque tutti noi abbiamo sentito. e questo ci ha portati anche purtroppo a sentire che alcuni di noi non stavano avendo più quella linea di demarcazione chiara tra il momento di lavoro e il momento di casa o tempo libero perché ci ha portati anche a vivere un po' di più in stato di emergenza, di lavorare come c'era bisogno e quando c'era bisogno, ovvero di perdere molto questa linea di demarcazione tra il momento in cui sono con la testa e il corpo al lavoro fisicamente anche e il momento in cui sono a casa e quindi mi sento che sono assolutamente in un altro mondo e che ho staccato. Quindi questo distacco non c'era più e psicologicamente questo ci ha portati a sentirci quasi obbligati anche moralmente a continuare a lavorare, pensare al lavoro, ragionare di più, continuare anche a dare, in sistema anche di emergenza, quello che c'era bisogno alla nostra organizzazione che stava anche sentendo momenti di grande difficoltà e questo ha creato sicuramente un grande scompenso. Ok, andiamo a vedere... Scusatemi per la disconnessione. Nessun problema. Purtroppo il tecnostress... Ecco, succede ancora. Esatto, è stato uno dei temi aperti e mi è appena partita la connessione. Fortunatamente siamo in due. Ho cambiato rete. Esatto. Per cui andiamo a vedere un attimo la diffusione dei vari progetti divisi per categoria. Come dicevamo prima, abbiamo visto note positive e note negative. Vediamo per categoria come si sono distribuiti i progetti di smart working. Vediamo le grandi imprese che all'81% hanno creato progetti strutturati o iniziative informali di smart working. stiamo parlando del 2021. Un 14% ha previsto di introdurlo, solo il 5% non ha preso nessuna iniziativa. Questo perché? Perché nelle situazioni, diciamo, di grande impresa già eravamo pronti, anzi qualcuno probabilmente già stava creando progetti di smart working. Già era stata vista come un'opportunità più che come un problema. Anche per le grandi imprese abbiamo dei risultati quanto riguarda conciliazione vita privata lavorativa, vedete all'89% di soddisfazione positiva. Maggiore efficienza perché pertanto le grandi imprese hanno una struttura organizzativa spesso già pronta a una situazione del genere. Già adesso nelle grandi imprese il capo probabilmente non vede le persone che lavorano per lui direttamente. Già in quelle situazioni quindi esiste una serie di processi e strutture che aiutano a poter lavorare anche da remoto e quindi quest'altra parte anche in questi casi cresce la insoddisfazione per la mancata comunicazione tra i colleghi e forse un minore engagement, un minore sentire l'azienda come parte della propria vita, del proprio scopo e come è stato impattato il tutto sulle piccole e medie imprese e vedete come i risultati siano diversi. Ok, benissimo. Allora vado avanti con le piccole e medie imprese e vediamo un cambiamento sostanziale. Questo vuol dire che vediamo che la percentuale delle piccole e medie imprese che hanno preso spunto iniziative e hanno lavorato con progetti strutturati con lo smart working sono stati molto 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 minori e vediamo anche che molti hanno avuto proprio il rifiuto per problemi strutturali, per problemi culturali che non erano pronti anche dal livello dal punto di vista anche di formamentis o di modo di lavorare insieme oppure il tipo di lavoro che fanno non li permette di poter lavorare da casa. Vari sono i motivi e qua vediamo infatti che la storia raccontata vissuta dalle PMI è sicuramente molto diverso. Vediamo che comunque ci sono stati dei trend in positivo sul discorso di efficacia alla conciliazione vita e lavoro percepita da alcuni però il discorso della comunicazione che mancava e anche l'ingaggio emotivo da parte delle persone verso quello che stavano facendo il lavoro e l'azienda stessa e sono assolutamente due temi degni di nota che sicuramente le PMI fanno sentire tantissimo. Andiamo invece a vedere cosa è stato dal punto di vista della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione sembra che sia un po' a metà strada tra le PMI e le aziende private strutturate perché vediamo che c'è una percentuale un po' più alta rispetto alle PMI però un po' più bassa rispetto alle organizzazioni private dove ha avviato progetti strutturati con lo smart working iniziative anche informali e anche ha voluto introdurre perché fa parte magari del legislatore stesso che per alcuni stavano già ragionando su come far lavorare lo smart working non solo come telelavoro cioè portare il tuo lavoro a casa così pari pari come stavi facendo prima solo quello fai da casa ma un'evoluzione anche di mentalità di come lavorare come prendere decisioni come lavorare in team e come far evolvere anche i progetti in un modo un po' diverso rispetto a prima però vediamo anche che c'è un bel 16% di fetta della pubblica amministrazione che comunque ha ancora rifiuto o ancora difficoltà in qualche modo a integrare lo smart working in questo senso vediamo che anche qua la comunicazione l'engagement rimane un tema forte anche per la pubblica amministrazione però vediamo che invece dal punto di vista di conciliazione di vita privata lavorativa c'è un bel 82% quindi è stato sentito molto dal punto di vista dei dipendenti della pubblica amministrazione un miglioramento un netto miglioramento in questo senso e anche non indifferente quel 30% di più efficienza sul lavoro questo ci porta quindi ad avere una fotografia variegata se vediamo le grandi imprese sicuramente mi hanno detto sì perfetto ci piace siamo pronti a portarla probabilmente avanti perché è una cosa che ci aggiunge valore è una cosa che ci rende più efficaci ci rende in qualche modo più positivi verso quello che stavamo facendo come lo stavamo facendo mentre invece la PMI il mondo della pubblica della impresa piccola e media e anche piccolissima vediamo che invece probabilmente ha detto che non ci sarà andiamo a vedere poi anche dopo i motivi che possono non essere magari così evidenti in questa fase qua di analisi e questo livello di visibilità di questo risultato e invece la pubblica amministrazione è un po' a metà c'è un bel 50% che dice che vale la pena tenerlo però c'è un però e magari ci sono anche più però e qua vale la pena capire se sono strutturali se sono culturali se sono entrambi ma sono anche magari dovuti al modo la modalità con il quale finora la pubblica amministrazione ha ragionato e anche portato avanti il proprio lavoro che vale la pena prendere in considerazione fatto evolvere maggiormente questa quindi è una fotografia sicuramente molto interessante ok questa è stata una prima fotografia dell'aspetto tecnico logico legislativo come un'infarinatura importante per contestualizzare bene quello di cui andiamo a parlare cioè l'aspetto valoriale culturale di quello che succede in ognuno di noi a livello individuale ma che succede anche a livello collettivo a livello di squadra di team ma anche nell'organizzazione a livello aziendale e anche a livello perché no culturale nel sistema paese perché alla fine siamo sempre parlando degli stessi temi solo che sono portati su livelli diversi partiamo da un presupposto nessun uomo o donna è un'isola siamo animali sociali e quindi questo è un tema importante da ricordarci sempre perché così come diciamo che mettiamo le persone al centro nelle organizzazioni è importante anche portare noi stessi su questo tema il fatto che noi siamo animali sociali e quindi abbiamo bisogno di crescere di condividere di continuare a confrontarci in gruppo il gruppo può essere piccolo grande o medio che sia però abbiamo bisogno di continuare a portare questo aspetto sociale cosa andiamo a vedere quindi? quali sono i bisogni dell'individuo dell'organizzazione quali sono i valori alla base del nostro comportamento perché spesso ci fermiamo solo sul comportamento cosa facciamo mentre in realtà c'è bisogno di andare un po' più in profondità e capire il perché la motivazione il motivo che ci fa agire e ci fa poi avere assumere certi comportamenti e questo ci aiuta a capire come anche il modo in cui guidiamo le persone nell'azienda nell'organizzazione cioè la leadership fa sì che noi agiamo in un certo modo pensiamo in un certo modo oppure in un altro e quindi questo ci porta a capire un po' meglio cosa sta succedendo a livello di smart working a livello individuale ma anche nelle nostre organizzazioni bene andiamo a vedere cosa vuol dire uscire fuori dalla zona di comfort l'avrete l'abbiamo sentito nominare più volte e questa è una cosa importante quando noi siamo abituati a fare una cosa ripetutamente come guidare la macchina andare al lavoro svegliarmi la mattina fare colazione praticare un'attività sportiva siamo in una zona di comfort perché abbiamo abituato il nostro cervello il nostro corpo il nostro sistema ma anche in un'organizzazione quindi il nostro iter quotidiano di come facciamo le cose a una zona di comfort vuol dire che abbiamo dei parametri dei punti di riferimento che sono fissi quando succede qualche cosa per nostra volontà oppure che arriva dall'esterno succede che veniamo buttati fuori o siamo noi che sciogliamo di uscire fuori dalla zona di comfort questa è una zona dove noi possiamo subire dello stress come abbiamo detto prima con Marta che può essere in parte positivo perché è uno stress buono che ci fa crescere sto facendo cose nuove ma può essere anche un qualche cosa di negativo se lo stress è un po' troppo per me perché più che aiutarmi a crescere mi sta forse mettendo in difficoltà e mi sta creando disagio frustrazione e paura una paura che non è quella paura che ci serve per fare qualcosa di nuovo ma una paura che può bloccarci farci arrivare a una situazione di panico oppure farci sentire che noi dobbiamo combattere oppure fuggire e questo ritorno al tema principale del fatto che siamo animali sociali c'è una parte di noi che rimane sempre animale che al momento di stress ci fa combattere fuggire o rimanere bloccati perché il nostro sistema ci sta dicendo che c'è qualcosa al quale noi non siamo abituati che ci sta mettendo in difficoltà e quindi ci sta mettendo in allerta il nostro sistema che funziona benissimo è stato pensato per aiutarci a dirci attenzione c'è qualcosa alla quale vale la pena rivalgere la nostra attenzione e vediamo cosa farcene quindi la zona di panico succede invece quando l'asticella è stata alzata un po' troppo e per alcune realtà alcune organizzazioni e alcuni individui forse l'asticella è stata alzata un po' troppo anche perché ci sono stati tanti fattori tutti insieme prese una per volta può anche essere che magari l'evoluzione dello smart working a lavoro potrebbe essere gestito e vissuto in modo diverso ma nel momento in cui c'è l'aspetto lavorativo l'aspetto personale l'aspetto della propria salute i figli che non vanno a scuola il fatto che non possa uscire fuori tanti punti di riferimento sono venuti a mancare quindi tante persone e organizzazioni anche a livello collettivo nazionale internazionale siamo andati un po' in una zona di stress negativo quindi di stress che chiamiamo noi e ci ha messi in una situazione un po' di panico quindi l'impostazione mentale può migliorare e può essere pronta per qualcosa di nuovo quando lo facciamo in modo consapevole e quando lo facciamo in modo guidato perché ho capito che voglio fare un qualche cosa che mi aiuti a stare meglio inizio a praticare per esempio uno sport una cosa nuova che mi aiuterà per divertirmi di più per aggiungere un po' un peso forma o una soluzione diciamo così di salute migliore quindi inizio a fare fatica all'inizio però poi so che quello che sto facendo mi aiuterà nel tempo ad abituarmici e fare in modo che diventi parte della mia zona di comfort e aiutarmi a stare meglio quindi è un percorso che di solito io intraprendo in modo consapevole e questo è una cosa che per alcuni di noi è successo perché alcuni stavano già carezzando l'idea dello smart working e alcuni di noi già la stavano provando magari un po' in qualche modo mentre invece altri si sono trovati a dire è una forzatura la rifiuto la faccio perché devo non mi piace e mi sta creando ancora più stress perché mi fa sentire che sto facendo qualcosa che non voglio a molte PMI questa cosa è successa ma anche a livello anche individuale ad alcuni di noi l'abbiamo anche sentita anche perché diciamocelo chiaramente abbiamo perso tanto che di buono c'era anche prima quindi non è stata una evoluzione ma una rivoluzione per molti di noi è stato come togliere tutto tabula rasa e iniziare in un modo completamente diverso che ha sicuramente messo in difficoltà molti di noi a meno che non eravamo già abituati mentalmente a prepararci per situazioni di questo tipo però francamente penso che nessuno in realtà era così preparato sicuramente alcuni lo erano più di altri quindi cosa ci porta a questo ci porta ad avere paura che a sua volta a lungo andare e perché era una situazione che è andata avanti per un periodo lungo ci ha portate anche in un mancanza di equilibrio tra ciò che succede intorno a noi e ciò che sentiamo dentro di noi e questa mancanza di equilibrio a meno che non abbiamo e non vogliamo imparare a vivere la paura come un'emozione come tanti altri che può carburarci per generare un cambiamento finiamo per subirla ma invece se vogliamo in modo consapevole vedere come questa cosa può esserci d'aiuto per fare un salto un salto di crescita come abbiamo fatto da ragazzi come abbiamo fatto quando abbiamo cambiato lavoro quando ci siamo sposati quando abbiamo cambiato magari una cittadina dove abbiamo vissuto sono salti di crescita e questi salti possono aiutarci a trasformare la paura in azione un'azione che va nella direzione che per noi è consona che per noi è buona che per noi quando dico noi vuol dire noi l'individuo ma noi collettivo io noi e questo è il vero tema di quello di cui stiamo parlando oggi perché quando un accordo viene fatto beneficiare solo una persona e ma va a ledere agli altri diventa un problema perché noi non possiamo prendere una decisione che non sia consapevole a livello sistemico vuol dire che prendo in considerazione chi fa parte del mio sistema e i vari sistemi di cui faccio parte io un sistema può essere famiglia un sistema può essere l'organizzazione un sistema può essere il mio sistema psicofisico quindi ci sono vari gradi un sistema può essere la società il sistema nazione quindi non vogliamo complicare le cose vogliamo utilizzare quello che sono strumenti che ci aiutino a capire l'essere umano e quindi anche di conseguenza le aziende che bisogni ha sin da quando noi nasciamo abbiamo bisogno di soddisfare il nostro bisogno di sicurezza quindi di certezza che c'è qualcuno che si prende cura di noi che noi possiamo mangiare possiamo dormire tranquillamente che ci sono c'è qualcuno che ci protegge e che ci fa sentire che noi siamo sicuro il secondo bisogno dell'essere umano questi rimangono sempre in tutta la nostra vita è quello di creare varietà cioè ogni tanto c'è bisogno di incertezza e di cambiamento di varietà di novità per sentire che ci sono nuovi stimoli che ci aiutano a crescere andare un po' a sentirci nell'avventura banalmente il secondo è un po' il paradosso del primo però alcuni di noi tendono a voler di più la sicurezza allora quando questa sicurezza viene a mancare sono in grosso difficoltà altri alcuni di noi invece tendono a preferire quasi la varietà sono abituati alla varietà allora una situazione come quella della pandemia lì ha creato disagi e problemi sicuramente ma non a quanto a chi per esempio preferisce predilige la sicurezza terzo bisogno quello di sentirci importanti e questa è una cosa che non è solo per un bambino anche per un adulto abbiamo bisogno di sentirci ognuno di noi speciali importanti apprezzati degni di attenzione e di connessione questo succede di solito in famiglia ma succede anche negli ambienti in cui lavoriamo perché il nostro modo di lavorare insieme le nostre relazioni il nostro ruolo anche i progetti che seguiamo le nostre responsabilità ci fanno sentire che noi facciamo la differenza noi siamo utili e quello che noi possiamo dare noi stessi agli altri è importante quarto bisogno è quello della connessione la connessione è fondamentale perché ci fa sentire che siamo umani e che noi possiamo fare la differenza che gli altri fanno la differenza nella nostra vita perché questo contatto è un qualche cosa che cerchiamo sino a quando siamo piccoli ma anche andando avanti ripeto siamo degli esseri sociali e questa parte sociale per noi è venuta molto a mancare durante la pandemia quindi per chi ha e aveva tanto bisogno di connessione abbiamo visto anche dal vostro riscontro nelle domande che vi abbiamo posto la forzatura dello smart working per alcuni specialmente per chi anche vive da solo o magari non ha la fortuna di avere i suoi cari intorno a sé io per un paio d'anni non sono riuscita a ritornare al mio paese nativo cosa mai successa hanno 22 anni da quando sono qui in Italia quindi questo distacco l'ho sentito anche se la tecnologia è stata di grande aiuto però alcuni di noi hanno sentito tantissimo il discorso del distacco anche fisico altri di noi vanno anche avanti ad avere altri bisogni che hanno sentono il bisogno di soddisfare questo succede sia a livello ripeto individuale ma anche collettivo anche l'organizzazione l'azienda sente che ha bisogno di crescere e quindi lo sviluppo emotivo spirituale intellettuale arriva spesso anche attraverso il lavoro ma attraverso il confronto con gli altri alcuni di noi sono riusciti ad organizzarsi grazie a dei webinar chi è entrato a far parte di qualche gruppo altri invece hanno sentito che quello che li aiutava a crescere è venuto a mancare così come anche il contributo che ognuno di noi può e alcuni di noi sentono il bisogno di dare alcuni sono riusciti a continuare a darlo in modo nuovo magari utilizzando di più anche strumenti come questa piattaforma ma altri si sono sentiti che gli è stato negato la possibilità di poter andare avanti e contribuire con quello che facevano prima all'evoluzione anche del mondo stesso e quindi questi sei bisogni se andiamo e vediamo da più vicino sia a livello individuale che a livello collettivo e organizzativo sono stati bisogni che non sono stati soddisfatti o che in qualche modo hanno subito tantissimo durante la pandemia e che la smart working ha saputo magari compensare in parte oppure non soddisfare oppure in qualche modo iniziare a soddisfare in un modo nuovo e quindi questa è una cosa molto importante da tenere in mente perché per quanto possiamo essere evoluti tecnologicamente come esseri umani c'è quella parte di noi che continua ad aver bisogno di tutto questo in qualsiasi parte del mondo ci troveremo in qualsiasi era storica vivremo questo vuol dire che è importante iniziare a ricordarci che all'aldilà di tutto l'aspetto tecnologico e organizzativo e legislativo c'è una parte umana sottostante che è fondamentale da riconoscere e tenere in mente Federico allora spero che riusciate a sentirmi ora purtroppo il tecnostress ha colpito in maniera importante su questa parte il nostro approccio integrale come diceva Stefani spesso e volentieri noi abbiamo partecipato e abbiamo anche realizzato workshop webinar in cui parlavamo della parte strettamente tecnica e strutturale dello smart working però la nostra esperienza sia in azienda sia come consulenti di piccole e medie aziende ci dice che spesso e volentieri questo fa dimenticare la parte umana dell'organizzazione noi utilizziamo diversi strumenti alcuni di questi vanno soprattutto a cercare di capire come pensano le persone al posto di cosa pensano perché si prendono alcune decisioni non solo il risultato a volte la stessa decisione viene da perché diversi capire il perché qualcuno sceglie di fare un'azione piuttosto che un'altra ci può portare ad aiutarlo nel momento in cui queste azioni non sono più così semplici da svolgere non sono le solite che siamo abituati a svolgere ok quindi spesso e volentieri non prendiamo in considerazione il fattore motivazione prendiamo in considerazione solo il risultato e cerchiamo di forzare spingere verso il risultato senza considerare tutti i fattori al contorno il che vuol dire ottenere magari un ottimo risultato nell'immediato perché nell'immediato la forza mi ha portato ad avere a spingere persone verso quelle azioni ma sul medio lungo termine mi porta a perdere le occasioni andremo avanti vedremo come ragiona come ragioniamo per ottimizzare le situazioni di cambiamento andiamo a vedere anzi Steph se vuoi posso condividere di nuovo le 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 slide delle risposte così andiamo a utilizzare gli argomenti che avete voi stessi evidenziato per ragionare su questi termini per vedere poi come come affrontarli perché poi il tema è giustamente è quello all'interno di un'organizzazione complessa come si affrontano questi temi di cambiamento spesso forzati spesso non compresi e spesso spinti in maniera diversa l'abbiamo visto con risultati opposti a seconda del tipo di sistema nel quale si trovano abbiamo visto come hanno risposto le grandi imprese abbiamo visto come hanno risposto le piccole e medie imprese e la pubblica amministrazione sta nel mezzo vedremo anche la ragione del perché queste tipologie diverse di organizzazioni rispondono in maniera diversa allo stesso input perché sta dietro a quella che è la loro motivazione che poi diventa la motivazione delle singole persone che stanno all'interno delle organizzazioni alcuni di voi potrebbero in questo momento domandarsi ma perché serve andare a spaccare il capello così serve nel momento in cui una realtà ci chiede di fare un cambiamento un cambiamento importante perché se non siamo pronti a livello culturale per fare questo cambiamento rischiamo di fare peggio che non meglio e questo vuol dire c'è bisogno di partire dalla percezione delle parole di quello che stiamo utilizzando e capire cosa intendono le persone quando parliamo di parole che usiamo tantissimo adesso stiamo parlando di smart working la parola famosa comunicazione mi sono dedicata oltre 30 anni questa parola nella mia professione e continuo a capire oggi che spesso le persone non si comprendono la vicenda perché danno definizioni diverse a una parola che utilizziamo quindi se noi parliamo di smart working oggi e questo è solo un esempio e parliamo di un concetto che è capito visto e percepito da più punti di vista ok e iniziamo a capire un po' di più nel percepito di ognuna di queste persone che andiamo a toccare se foste voi l'azienda oggi che ci ha chiamati per intervenire ed aiutarvi a fare un processo di cambiamento vediamo che chiaramente nel vostro vissuto avete tutti quanti delle percezioni delle cose che avete vissuto voi sia in modo piacevole che spiacevole e quindi se a voi vi ha toccato in un certo modo a livello individuale avete già un modo valoriale di vedere il concetto di smart working che si basa sulla vostra esperienza banalmente la vostra esperienza che è stata vissuta in un contesto particolare perché ognuno di voi vive un qualche cosa in un contesto particolare per analogia Federico è toscano io sono maltese e vivo nel Veneto chiaro che viviamo anche noi la stessa cosa in alcuni aspetti in modo simile per altri aspetti in modo diverso perché l'aspetto culturale di territorio ma anche dal punto di vista di contesto nel quale viviamo anche a livello familiare e organizzativo sono magari simili o diversi questo fa sì che ci porta a capire meglio che a livello valoriale se non stiamo attenti a capire se quel passo di cui si sta parlando va bene per me e va bene per gli altri perché gli altri in base al loro vissuto che sarebbe opportuno che loro condividessero con me per capire che tipo di vissuto è stato non posso prendere una decisione che sia salutare e che sia veramente sostenibile nel tempo e qua parliamo di sostenibilità non ambientale ma culturale dentro la nostra organizzazione e sostenibilità anche a livello di vita privata nostra se io faccio una cosa e prendo una decisione importante che io la prendo pensando non solo al qui e ora ma anche al futuro un po' più vicino o un po' più anche lontano non vuol dire che è una sfera di cristallo ma vuol dire che sto iniziando a ragionare se è una cosa per me sostenibile a lungo periodo e sostenibile anche per le persone che hanno un contatto con me e che in qualche modo fanno parte della mia vita personale e viceversa la decisione che io prenderò nello smart working se per dire inizio e lavorerò da casa perché stringerò un accordo individuale con l'azienda che impatto ha con il resto della squadra e la squadra e il mio capo che tipo di ragionamenti sta facendo nel momento in cui prende decisioni sta prendendo delle decisioni che prendono in considerazione anche questi aspetti che per forza di cose sono diventati un tassello in più che stanno in parte facendo diventare tutto un po' più complesso non necessariamente complicato ma un po' più complesso e qua quindi andiamo a vedere come non solo cosa facciamo e come ragioniamo ma soprattutto la motivazione che c'è dietro alle nostre azioni è un tema fondamentale da capire e questo ci aiuta andiamo un passettino oltre a capire come in base alle condizioni di vita in cui viviamo e lavoriamo oserei dire e quindi andiamo a capire come sto ragionando in base alla situazione che sto vivendo quindi se sono un capo del personale e voglio far prendere una decisione ai dipendenti o meglio prendo io una decisione per loro non posso non prendere considerazione come c'è questo impatto sulla loro vita non solo personale ma anche sulla vita della squadra ci sono alcune realtà organizzate che stanno lavorando da tempo con modalità strumenti interessanti parliamo dell'approccio lean parliamo dell'approccio agile parliamo di approcci più strutturati e anche meno strutturati tutti sono buoni validi però in una condizione nella quale ci troviamo ora c'è bisogno di prendere in considerazione vari fattori sia a livello individuale che a livello collettivo e per fare un cambiamento vero che duri nel tempo è qua una cosa importante da far notare che la natura ci ricorda ci sono delle condizioni che vanno soddisfatte per fare un cambiamento che sia un cambiamento vero che viene generato che sia di lungo termine che sia sostenibile nel tempo ma la verità è che uno di questi sei fattori è il disagio se non c'è un disagio forte io il cambiamento non lo farò e questo ce lo ricorda la larva che si trasforma in farfalla spesso vediamo la prima l'ultima immagine poche volte vediamo quelle due e mezzo quelle due e mezzo sono fondamentali perché il disagio che sente che sta vivendo dentro questo involucro che sta tenendo questo insetto in una situazione dove non sta più bene non sta vivendo bene ha bisogno quindi di trovare un'altra soluzione per poter vivere al meglio e quindi questa metamorfosi riesce solo grazie al fatto che c'è un disagio che scatena a livello motivazionale un'azione e un modo di ragionare di essere completamente diversi e vediamo che poi il risultato finale per la falfalla sicuramente è quello di vivere una vita completamente diversa in condizioni di vita diversa rispetto a quello del bruco quindi il bruco viveva prima attaccato le cose basandosi sulle cose la farfalla adesso è libera da andare ovunque un'altra analogia semplice per chiunque che anche un bambino può capire è quando la motivazione per il cambiamento arriva da dentro è sana vuol dire che c'è la nascita di una nuova vita quando la motivazione arriva da fuori probabilmente quel uovo è destinato a morire e spesso ci troviamo in questa situazione dove ci chiamano ci dicono dateci una mano per far avvenire un cambiamento in azienda sì attenzione se la facciamo la forzatura dall'esterno rischiamo di solo peggiorare le cose se invece lavoriamo con la motivazione delle persone perché capiscono che c'è un tornaconto c'è un beneficio per loro a livello individuale e che quello che gli stiamo proponendo va bene per loro così come va bene per l'azienda e anche per la squadra e anche per la loro famiglia allora va bene è una nuova vita se invece quello che stiamo proponendo prende in considerazione questa decisione solo da un unico punto di vista probabilmente questo cambiamento non solo non genererà elementi positivi ma potrebbe anche portarci a fare dei passi indietro nel tempo fare delle regressioni piuttosto che un'evoluzione in una situazione migliorativa quindi quando parliamo di cambiamento vogliamo un miglioramento non un peggioramento questo ci porta allo strumento che utilizziamo che non vogliamo farvi fare una sessione di formazione qua però per aiutarvi a capire che l'approccio che utilizziamo nell'aiutare le aziende e gli imprenditori e anche altri responsabili nel fare i processi giusti sono quelli di capire che c'è un'evoluzione che è abbastanza ciclica alcuni di voi potrebbero conoscere il professor Abraham Maslow il suo lavoro con la piramide dei bisogni che è stato un po' in parte accennato da parte mia quando ho parlato dei bisogni dell'essere umano però un altro strumento che noi utilizziamo nello specifico che ci aiuta a capire meglio e aiutiamo anche le organizzazioni e le persone che vogliono generare cambiamento nella propria azienda come funzionano le dinamiche del cambiamento è grazie all'evoluzione del lavoro del professor Maslow che ha portato avanti anche la ricerca e strumenti altamente innovativi che portiamo avanti e utilizziamo che sono stati anche utilizzati in più parti del mondo e anche a livello geopolitico a livello finanziario ma a livello anche organizzativo delle aziende anche più piccole che ci aiutano a capire che alla fine le dinamiche sono sempre uguali che siamo in cento in mille o in dieci persone c'è un'evoluzione è un po' come un bambino deve passare da delle tappe predefinite prima di diventare un giovane ragazzo per poi diventare un adulto e poi a un certo punto diventare un anziano non sono tappe diverse qualsiasi persona passa dalle stesse medesime tappe e non esiste finora nessuna esperienza di nessuno che abbia fatto un salto da bambino diventato subito anziano a parte qualche film magari che avremmo visto di fantascienza che ci racconta magari anche la storia all'inverso però il discorso che noi vogliamo sottoporvi è questo che come il bambino diventa ragazzo diventa anziano anche un'azienda prima piccola prima di diventare grande alcune aziende grandi imprese si trovano su un livello valoriale di un certo livello e quindi sono già predisposti hanno già un modo di ragionare diverso e anche a livello organizzativo sono a un certo livello valoriale mentre la pubblica amministrazione si trova anche se più grande più forte però a livello di evoluzione valoriale dell'organizzazione questo non vuol dire è più o meno intelligente ma solo a livello di evoluzione del modo in cui si ragiona e del modo in cui si lavora è a un livello un po' precedente e le PMI si trovano a un livello ancora prima di questo questo vuol dire che non è che c'è un'azienda meglio di un'altra non c'è un'azienda che è più produttiva di un'altra perché più o meno intelligente ma stiamo parlando banalmente del modo in cui si ragiona e si è organizzati e alcune sono più predisposti e pronti per lo smart working rispetto ad altri che non lo sono cosa vuol dire questo una cosa che non si può cambiare no certo che si può cambiare però si può cambiare nel modo giusto facendo un'evoluzione giusta è meglio che io passo dal terzo al sesto piano sì cosa faccio prendo l'ascensore o è meglio imparare a passare di persona dal terzo al quarto vedere cosa c'è sul quarto piano poi passare dal quarto al quinto vedere bene cosa c'è sul quinto piano e poi passare dal quinto al sesto è più sostenibile questo a lungo termine così posso decidere se salire scendere come voglio cosa c'è negli altri piani oppure vado direttamente al sesto però rischiando di non sapere bene cosa c'è sugli altri piani e se ho bisogno poi di ragionare in altri modi mi trovo perso perché questo è successo ad alcuni alcuni si sono trovati costretti a saltare dei passi delle tappe fondamentali e come se alcuni erano sul terzo piano sono stati forzati ad andare sul quinto sul sesto e non sono mai passati dal quarto al quinto piano banalmente questo vuol dire che è un'opportunità per chi volesse ma è chiaro non facendo dei salti mortali se no andiamo nel panico ma fare dei salti che abbiano un senso nell'alzare l'asticella un po' per volta e quindi questo vuol dire che per alcune organizzazioni vale la pena fare il passaggio prossimo passo un nono dieci giusto che dal loro punto di vista è quello giusto da fare sia a livello strutturale ma soprattutto culturale perché non è solo fare un'organizzazione che ci porta o nuovi processi o nuovi strumenti che ci fanno vedere le cose in modo diverso ci bisogna veramente di iniziare a lavorare sulla cultura della persona e dell'aspetto collettivo dell'azienda per aiutarle a capire che quello che si sta vivendo è un'opportunità di crescita per tutti ma non è solo dal punto di vista dell'azienda se no non è un approccio che terrà e manterrà un'evoluzione sostenibile sana ma sarà solo un passo avanti per poi farne quattro indietro o più avanti alcuni di voi anche che sono magari vicini ai temi umanistici avranno visto anche l'immagine dell'iceberg qua vi vogliamo sottoporre l'immagine dell'iceberg per quanto riguarda l'azienda l'organizzazione che è quella sulla destra è molto simile a quella dell'individuo noi raccontiamo tante cose belle di cosa siamo capaci di fare come siamo e quello che facciamo ma realtà sotto stress esce fuori quella parte nascosta quella parte sommersa quella parte inconscia che ci racconta veramente di cosa siamo fatti e quindi sotto stress possono uscire delle cose meravigliose come sono uscite perché basta vedere chi ha fatto molto del bene non solo a se stesso agli altri durante la pandemia e di questo gliene siamo veramente tanto grati e non parlo di certe tipologie di persone perché anche nel loro intimo tante persone hanno fatto del bene senza che gli sia stato dato un riconoscimento ma invece altre persone hanno trovato che lo stress che hanno vissuto li ha fatti tirare fuori invece cose meno belle questo non è un qualche cosa da giudicare ma un qualche cosa da vedere capire meglio per capire che forse l'asticella per loro quel momento era troppo alta e quindi cosa serve fare rimanere bloccati nella paura no? iniziare a prendere consapevolezza su cosa è successo cosa vale la pena fare per fare un passo avanti uno alla volta e accompagnare farsi accompagnare di chi ha già fatto questo tipo di percorso per andare a fare in modo di iniziare a ridurre sempre di più questo gap questo divario tra ciò che racconto di essere e ciò che sono veramente perché inizio a capire quali sono i miei punti deboli e li valorizzo e inizio a capire bene anche dove posso crescere come e questo lo possiamo fare sia a livello individuale ma anche a livello organizzativo in un'azienda un altro tema a noi piace lavorare sicuramente su modelli di ristrutturazioni se ce ne fosse bisogno anche a livello di modi di lavorare di approcciare il lavoro e spesso si tende a partire dalla parte strutturale dalla parte strategica attenzione perché la scienza la letteratura e chi lavora in questi settori da decenni tra un po' potremmo dire anche più di decenni ci racconta ci fa capire che la cultura invece della persona la cultura aziendale che traina non è la parte razionale logica perché banalmente la parte razionale logica anche a livello dell'essere umano è quella che è venuta dopo la paura ci porta a vivere invece la parte più ancestrale più istintiva del nostro essere e quindi anche a livello di organizzazione la cultura dell'organizzazione delle persone è ciò che traina è sotto stress e andremo avanti a vivere sempre più momenti più di stress purtroppo o per fortuna chi lo sa ma è così che si sta evolvendo il mondo perché diventa sempre più volatile incerto e diventa anche più complesso e alle volte anche più ambiguo vediamo che è la cultura che ha bisogno di rafforzarsi il nostro modo di ragionare il nostro modo di essere il nostro modo di sentire che ha bisogno di lavorare però insieme dentro di noi e anche con gli altri recupero un attimo appunto questa considerazione di Stefani perché anche noi lavoriamo in maniera integrata vi riprendo anche la diapositiva iniziale quella dove vediamo il nostro approccio che sia tecnostrutturale che culturale e valoriale perché è l'equilibrio che determina una situazione in cui si possa ottenere quella che è la performance che poi tutti noi vogliamo da quella che è la nostra organizzazione spesso e volentieri in diverse situazioni ci sentiamo appunto chiedere principalmente la parte strutturale sì ma come ci organizziamo il processo come funziona l'accordo ma se faccio l'accordo con questo poi chi lo controlla come come fa a lavorare e tutto il resto che è una parte essenziale l'abbiamo vista però abbiamo anche visto che nel momento in cui siamo stati tutti catapultati in questo nuovo mondo in questo caso dello smart working ma lo possiamo realmente affrontare per qualsiasi altro tema di cambiamento siamo stati catapultati in un cambiamento forzato tutti ci siamo adattati immediatamente salvo poi cominciare a trovare le condizioni che non ci soddisfavano dal punto di vista non ci soddisfacevano dal punto di vista personale umano culturale di valori in rapporto a quello che è la nostra il nostro livello valoriale abbiamo visto prima la differenza dei livelli valoriali delle tipologie di azienda qualcuna era già più preparata qualcuna non lo era anche le persone in qualche maniera sono qualcuna più preparata a una certa tipologia di lavoro e qualcuno meno per competenza per cultura per anche per studi per quanto uno possa essere diciamo pronto preparato intelligente spesso e volentieri l'ambiente in cui si trova è quello che ha formato il suo sistema valoriale del momento spesso e volentieri non lo affrontiamo ed è infatti il tema per cui alcune delle imprese si sono trovate poi in difficoltà e hanno deciso che nel momento in cui tornerà l'auspicata normalità e anche lì ci sarebbe da aprire un dibattito su qual è la normalità torneranno indietro al vecchio modo di lavorare perché abbiamo sempre fatto così e perché così ha sempre funzionato fate molta attenzione perché con questo ragionamento tante tante imprese si troveranno in grossa difficoltà con le proprie persone perché comunque tante persone hanno scalato i livelli valoriali nel momento in cui sono state costrette a farlo e tornare indietro può provocare reazioni anche importanti a livello di partecipazione engagement disponibilità al lavoro quindi il tema diventa decisamente importante per tutti anche a chi pensa che se prima funzionava tornare indietro adesso funzionerà ancora non sarà così non sarà così semplice almeno diciamo no ma non ci sarà un ritorno al futuro sicuramente questo ci aiuta anche a chiederci e voler quindi fare con voi la domanda porci la domanda che ci porta di solito al cambiamento e quindi e quindi cosa facciamo e quindi il discorso è questo ogni azienda ha un proprio stile di leadership che sia consapevole meno ha un modo di aiutare le persone a sentirsi motivate a direzionarli dirigerli oppure incentivarli ad andare tutti quanti nello stesso modo c'è chi usa l'ispirazione c'è chi usa i piani c'è chi usa la visione c'è chi invece è molto più ehm autoritario c'è chi invece ci sono varie tipologie quello che noi aiutiamo le aziende e le persone che sono a un livello di responsabilità che possono essere sia ehm soci fondatori manager o altre tipologie di persone che in qualche modo si trovano a essere responsabili per altri a fare è quello di prendere consapevolezza sul proprio stile di leadership perché di solito dico una cosa che magari potrebbe non piacere molto ma ehm se c'è un problema e qual detto un po' colloquiale dice se c'è un problema il pesce di solito puzzo dalla testa magari non è una cosa molto carina da dire però ci piace la verità perché la verità ci porta a capire che spesso se ci sono dei problemi nell'azienda c'è bisogno di aiutare chi è a capo dell'azienda e quindi i responsabili a creare un modello di leadership che sia anche evoluto con i tempi non vuol dire rinunciare o lasciare dietro le spalle ciò che è stato perché non crediamo nella rivoluzione però crediamo molto nell'integrare anche modi di vedere che rispettano sì tutto il passato sì la visione del futuro ma anche integrare ciò che si sta vivendo in questo momento quindi aiutare le piccole e medie imprese piuttosto che aziende più strutturate o la pubblica amministrazione a fare i prossimi passi giusti vuol dire aiutare chi è a capo capire anche che l'evoluzione che si deve fare per poter poi portare altre innovazioni e novità nell'azienda è uno valoriale l'evoluzione valoriale vuol dire andare ad aiutare le persone che sono responsabili a capire in modo logico razionale attraverso anche il loro modo di essere che tipo di occhiali stanno utilizzando per vedere raccontare la loro visione della loro organizzazione perché tutto viene filtrato da quello non c'è un punto di vista oggettivo realmente tutti noi abbiamo punti di vista soggettivi e tutti sono punti di vista come se avessimo degli occhiali che sono risultato dell'esperienza che abbiamo fatto nella nostra vita finora quindi tornando su questo ci aiuta a capire come alcune aziende sentono il bisogno di fare un passo avanti altri hanno la visione di farne anche già 3-4 però c'è bisogno di fare un passo alla volta e come alcune aziende invece sentono di aver fatto un rimpasso indietro o peggio ancora di essere bloccati perché la paura ci porta a sentirci bloccati quando noi parliamo di resilienza è stata utilizzata in più modi in più salse in più vuol dire non solo diventare forti ma soprattutto diventare bravi nel reagire nel modo giusto nel momento giusto iniziare a capire meglio come siamo come ragioniamo e iniziare anche ad avere una sorta di flessibilità di valori ci aiuta a diventare non solo più resilienti ma a fare ciò che succede nella natura quando ha un albero che arriva un forte vento lo porta o a muoversi a subire l'impatto però poi a un certo punto ritornare in piedi se è abbastanza radicato bene per terra oppure se è troppo rigido nel suo modo di essere però cosa succede? Due sono l'ipotesi o viene sradicato o spezzato e a un'azienda un essere un individuo succede esattamente così se non abbiamo non impariamo ad avere una flessibilità valoriale succede che arrivano momenti come questi e arriveranno altri e non è perché voglio essere l'uccello del malaugurio ma perché è normale che la vita ci sia sempre se guardiamo la storia ciclicamente ci sono sempre state crisi se non pandemie e guerre se non guerre è altro e normale ciclico fa parte della vita dell'essere umano non possiamo quindi essere troppo solo ottimisti bisogna essere ottimisti sì essere realisti che ciclicamente ci troveremo più complesso sta diventando il mondo ad affrontare sfide diverse ed essere pronti a livello valoriale vuol dire darci questa flessibilità che se non la utilizziamo rischiamo di sradicarci morire o spezzarci e stare molto male l'albero ha bisogno di essere radicato in profondità e questo è quello che fa un essere umano con i suoi radici per poter subire il colpo il colpo e poi ritornare nello stesso modo eretto dopo quando il vento cessa l'hanno fatto anche i giapponesi con i loro edifici antisismici cosa fa un edificio antisismico rimane duro rigido no arriva il terremoto fa in modo che con il modo in cui è stato costruito accoglie il colpo non è che è resistente lo accoglie quello che stiamo facendo noi in questo momento a livello sociale stiamo accogliendo il virus sta diventando parte di noi o attraverso il vicino o attraverso il fatto che l'abbiamo preso questo benedetto virus quindi lo accogliamo e inizia a farci diventare anch'esso più forti cosa succede finisce il terremoto l'edificio ritorna in piedi questo è quello che noi facciamo accompagniamo le aziende e le realtà a fare perché è inutile pensare che non ci sia assolutamente più l'opportunità di cogliere momenti come questi di grande sfida perché ci saranno sempre di più e sta a noi capire che sono opportunità di crescita e non qualcosa che ci vuole fare solo male nel momento in cui noi iniziamo a diventare molto rigidi e rifiutiamo ciò che arriva quindi qual è il nostro invito? speriamo speriamo che oggi vi sia stato un po' più di aiuto per voi per capire il perché e il come le aziende di varie dimensioni ma soprattutto di varia evoluzione livello di evoluzione valoriale stanno affrontando questo momento e da parte nostra vi stiamo offrendo un'opportunità se avete piacere cioè per chi ha voglia di poter approfondire queste tematiche nello specifico da una parte siamo sempre a disposizione chiaramente per venire da voi trovarvi e aiutarvi anche ad analizzare più in profondità qual è la vostra situazione e qual è il vostro disagio vero che state sentendo che vi motiva a portare avanti un percorso di cambiamento dall'altra stiamo organizzando un percorso un ciclo di quattro sessioni che invita coloro che vogliono partecipare è un percorso di maggior consapevolezza di maggior presa di responsabilità e di maggior aiuto per poter mettere in azione quei comportamenti a livello individuale ma magari anche a livello aziendale se avete piacere di condividere quello che state vivendo in un'attività di coaching di gruppo queste quattro sessioni di due ore e mezza cada una sono sessioni che noi estendiamo chi ha voglia di partecipare e fare in modo che in questi momenti ognuno può condividere il proprio quindi non sarete solo in ascolto sarete attivi e potrete partecipare raccontando cosa avete vissuto cosa state vivendo che tipo di decisioni vi trovate adesso a dover o voler prendere per poter farlo nel migliore dei modi e con il nostro sostegno il nostro aiuto e anche con la condivisione di questo strumento che vi può aiutare capire qual è il prossimo giusto step da fare per voi questo sarà fatto attraverso la piattaforma zoom lo facciamo in totale rispetto anche della privacy di chi partecipa però il fatto di avere l'opportunità di fare un confronto con altre persone che stanno vivendo la stessa tematica magari in contesti diversi fa sì che la crescita avviene anche attraverso l'ascolto e la condivisione delle esperienze proprie di quelle degli altri ok direi che abbiamo concluso avvedo una domanda avete la possibilità di mettere ulteriori di scrivere ulteriori domande Marta ci chiede se i quattro workshop sono a pagamento sì lo sono sono a pagamento anche per un motivo molto importante perché vuol dire che uno si prende anche l'impegno è fondamentale noi facciamo i nostri webinar ed è il nostro modo di aiutare persone che sono interessate a un tema a capire e sensibilizzarsi e anche approfondire alcuni aspetti di quelle tematiche che di tanto in tanto noi vi proponiamo questo percorso invece è un percorso che vuole che ci sia un numero di persone che si prendano l'impegno di esserci in questi quattro appuntamenti e che ci sia un impegno anche reciproco di ascoltare e di condividere quindi sia un percorso che a breve dopo la fine di questo webinar Cecilia manderà anche la mail ai partecipanti con maggiori informazioni qua vi già proponiamo le date e gli orari sono fissi non cambieranno non registreremo come stiamo facendo invece in questo momento le sessioni perché ovviamente è un rispetto verso chi condivide che quello che viene detto vissuto e accolto rimane là tra di noi quello che però vi aiuterà sicuramente a fare questo tipo di percorso è di accrescere non solo la consapevolezza ma per aiutarvi veramente in modo chiaro a capire quali sono i giusti step da fare per voi a livello individuale ma anche per la vostra organizzazione quindi il tema del percorso Federico vediamo parleremo di lavoro agile non solete del lavoro che è un concetto dinamico la nuova normativa quindi parleremo anche di aspetti strutturali non solo culturali perché partiamo comunque da tutta una serie di informazioni basiche necessarie probabilmente già a vostra conoscenza quindi in alcuni casi non ci soffermeremo ma partiremo da quello tutto ciò che è la parte di battito al corso e soprattutto parleremo del progetto in equilibrio sistemico perché è la parte che in qualche maniera avete cominciato ad assaporare nel senso a cercare di sentire che non basta avere una buona connessione un accordo individuale in cui io ti dico te puoi lavorare devi dimostrarmi lavorare otto ore al giorno anche da remoto e abbiamo risolto il tema dello smart working in realtà ci sono tutte le tematiche di rapporto culturali di motivazione che abbiamo accennato e che vedremo con lo strumento che vi abbiamo solo fatto intravedere ma che ha una potenza enorme vi dico solo che è stato utilizzato anche in contesti internazionali ecco scusate vi faccio vedere questa parte che possiamo in qualche maniera dare come come referenza per studiare realtà molto molto complesse quindi per dare poi la possibilità di intervenire sull'aspetto veramente importante in quella situazione non solo sulla parte strettamente tecnologica strutturale per rispondere anche a Marta Cecilia ha appena messo adesso sulla chat anche la pagina dove attraverso la quale questo link ci sono tutte le formazioni per il corso e vi diciamo anche che se vi può essere anche di interesse che si organizzi qualcosa di questo tipo anche in modo ad hoc per la vostra azienda in modo specifico perché sentite magari l'esigenza che un un dibattito e un workshop e anche il lavoro di cambiamento possa fare al casa vostro anche in modo specifico già per l'azienda siamo completamente ovviamente a disposizione la cosa che dico sempre è che attraverso un problema o una situazione spesso poi si apre uno scenario ben più ampio su quelle che sono le condizioni della nostra cultura aziendale organizzativa e la nostra struttura quindi si può essere che si parte dallo smart working benissimo perché il tema è questo oggi però grazie anche a questo tema che iniziamo ad avere anche più consapevolezza dello stato in cui ci troviamo a livello di evoluzione valoriale nell'azienda e possiamo anche capire il perché di alcune esperienze vissute in passato sia piacevolmente piuttosto che in modo spiacevole perché attraverso questo strumento iniziamo a vedere anche con un paio di occhiali nuovi e quindi questo sicuramente è una cosa che aiuta ognuno di noi a capire bene qual è la vera opportunità che abbiamo di fronte cioè quella di renderci conto ancora di più chi siamo cosa rappresentiamo quali sono i nostri valori e cosa vale la pena anche andare a prendere in mano per valorizzarlo o migliorarlo nella voglia di continuare a crescere noi rimaniamo a disposizione per qualsiasi domanda vostra Cecilia vi mette anche a disposizione questo indirizzo mail al quale potete anche scrivere per qualsiasi tipo di necessità o piacere di condivisione o di richiesta di informazione da parte nostra è stato un privilegio grazie oggi per averci concesso questo tempo scusate per la parte di tecnostress che in qualche maniera ha creato qualche piccolo disagio all'inizio ma è stato vero reale tutto quanto esatto hardworking esatto grazie mille a tutti grazie mille Stefani grazie mille a Federico vi ricordo che vi invieremo il materiale che ci avete condiviso quindi condivideremo con tutti i partecipanti e vi invieremo anche la registrazione a questo evento quindi poi se avete piacere di approfondire ulteriormente queste tematiche siamo a disposizione grazie mille a tutti